Resistenza, lesioni, rissa, violenza pubblico ufficiale, porto di oggetti atti a offendere. Sono questi reati contestati ai 23 tifosi olandesi arrestati dopo essere stati riconosciuti come autori dei disordini di mercoledì sera a Piazza Campo dei Fiori nel centro di Roma. Una multa di 45 mila euro al posto di sei mesi di carcere e la condanna patteggiata dai primi tifosi del Fai e Nord davanti al Tribunale di Roma. Gli imputati tra i 20 e i 28 anni sono sottoposti alla misura del DASPO e lasceranno la capitale venerdì mattina. Nuovi disordini con la polizia si sono verificati giovedì pomeriggio in Piazza di Spagna dove si erano concentrati 500 ultra-olandesi. Sono circa 6.000 i tifosi giunti a Roma per seguire la partita di Europa League. 600 sono considerati ad alto rischio. Lo stato di allerta è massimo.